Che ore sono? Le 5 e 5 L'hai detto sul serio che vuoi sposarmi? Sì Perché? Perché lo voglio Non perché mi ami o qualcosa del genere Io ti rispetto e ti ammiro E non è amore? No, è rispetto e ammirazione È meglio dell'amore Come? Quando si è innamorati Si fanno un sacco di stupidaggini Si diventa gelosi, bugiardi Si inganna Si uccide se stessi Si uccidono gli altri Non è necessariamente così Forse Saresti il padre di un bambino Che sai che non è il tuo I bambini sono bambini Che importanza ha? Tu ti fidi di me? Se anche tu ti fidi di me Io mi fido di te Sicuro? Sì Allora sposa E io ti spaso solo se ammetti che il rispetto L'ammirazione e la fiducia sono uguale a amore Va bene Uguale amore Buona sera Allora sposa Bene, mi fido di te, adesso tocca a te Cosa? Vai lassù Maria, è molto alto Non ti fidi di me? Si che mi fido Allora vai Maria, sono due volte te Se ti cado addosso da quell'altezza, ti ammazzo Fida Non è questione di fiducia Matthew, vai su quel muro, io fermerò la tua caduta, te lo prenotto